Musica Ambiente e inquinamento con un voto a maggioranza, 21 a favore, 11 contrari, 2 astenuti, passa la proposta di legge che introduce le nuove disposizioni per il rispetto dei valori limite per il materiale particolato, le PM10 e il biossido di azoto, nelle aree della Toscana dove questi limiti sono stati superati per un numero di giorni maggiore di quello consentito, un provvedimento che per il particolato interessa la Piana di Lucca e diversi comuni della Val di Nievole in provincia di Pistoglia. Le nuove norme, ha spiegato la Presidente della Commissione Ambiente e Territorio, modificano la legge regionale 74 del 2019 e arrivano dopo un percorso di confronto con i 14 comuni interessati dal provvedimento, confronto che si era concentrato in particolare sulle modalità dei controlli rispetto alle sanzioni, sugli incentivi per sostenere la transizione ecologica e sul tema dell'eventuale rivalza nei confronti dei comuni inadempienti. I punti principali sono una modifica alla legge 74 che imponeva già, tenendo conto dell'infrazione che abbiamo come regione toscana per l'emissione in area di PM10 oppure di biossido. Oggi siamo intervenuti soprattutto sulla parte che riguarda la Piana Lucchese e Val di Nievole, dove in quei territori ci saranno da parte dei sindaci, ci sono state da parte dei sindaci, dei divieti di accensione di cammini nelle abitazioni, nelle sole abitazioni dove il cammino non è unico sostentamento dal punto di vista del riscaldamento, quindi quelle abitazioni sono escluse, verranno emesse delle ordinanze sindacali, quindi da parte dei sindaci, che vieteranno oppure limiteranno la possibilità di accensione per quei cammini che sotto le tre stelle, è così una classificazione che viene fatta normalmente, emettono in area queste polveri che sono davvero dannose per la salute. Questo risultato viene dal progetto Pathos tenuto dall'Università di Firenze, da questo studio si evince una responsabilità di questo tipo di attività, quindi dell'accensione del cammino, di oltre il 53%, l'altro 47% deriva dall'erosione della crosta terrestre, ma qui naturalmente la regione toscana non può farci nulla. C'è un problema di salute, quindi cosa ha deciso la regione in collaborazione con il Ministero? Di intervenire in quei territori attraverso dei bandi che verranno fatti, i cittadini possono sostituire o ammodernare il cammino con nessun costo, tenendo conto dell'Isee, perché ci sarà uno sconto da parte dei fornitori, quindi non dovranno anticipare nessun soldo, siamo attraverso il lavoro che abbiamo fatto con missione, siamo riusciti a cambiare, cioè non ci sarà un anticipo da parte del cittadino, ma ci sarà uno sconto da parte dei fornitori, quindi non costerà niente a determinate categorie di cittadini cambiare il cammino, lo potranno quindi continuare, una volta fatto il lavoro, continuare ad accendere, e questo significa intervenire sulla salute di quei cittadini, davvero il rischio è molto alto e l'incidenza delle malattie è molto alta. Dalle opposizioni di centro-destra arriva un voto contrario alla regione, dicono scarica in questa maniera le responsabilità sulle comunità locali e sulle amministrazioni. È stato evidenziato in primo luogo da parte degli amministratori comunali, auditi nelle commissioni che hanno lavorato prima del Consiglio regionale di oggi, e sono stati evidenziati i limiti di questa normativa. I vigili urbani non sono in grado, non hanno la formazione adeguata, è difficile fargliela, sono un numero esiguo, specialmente nei comuni piccoli, e hanno anche probabilmente delle limitazioni giuridiche dal punto di vista dell'accesso agli immobili dei cittadini per svolgere i controlli che chiede la regione toscana. Allo stesso modo, gli studi che sono stati fatti sulla quello che è le ragioni dell'inquinamento, in particolar modo penso alla provincia di Lucca, penso alla provincia di Pistoria, ma anche a Firenze, che sia da addebitarsi per la maggior parte ai camini, è questione largamente discutibile. Tant'è vero che anche nei momenti in cui i camini non erano accesi perché abbiamo goduto di una temperatura molto alta, ebbene quelle centraline misuravano numeri che sforavano le limitazioni previste. E anche in questi giorni è notizia che proprio in Lucchesia, a seguito del fatto che un'azienda molto importante di Cellulosa ha preso fuoco, ebbene quella situazione che è da parificarsi sostanzialmente a una grande abbruciamento di legna, non ha dato luogo a variazioni sulle centraline. Quindi in realtà, e molto probabilmente, bisognerebbe pensare a quello che è il problema infrastrutturale regionale, al problema della mobilità, dove anche qui la Regione Toscana è in forte ritardo, come è in forte ritardo, è stata in forte ritardo sui controlli in tutti questi anni riguardo alle PM10. Quindi oggi la Regione Toscana, probabilmente spinta dalle sentenze, dai provvedimenti che vengono dall'Unione Europea, e che sono causa dei ritardi della stessa, ebbene va a far ricadere sulle spalle dei cittadini e sulle spalle degli amministratori pubblici costi e elementi organizzativi che probabilmente non saranno in grado di supportare. E lo fa nel momento di maggior crisi economica che fa seguito alla pandemia. Se Regione Toscana avesse operato dal 2009 al 2023, quanto stamani ha dibattuto in aula sulle PM10, è probabile che nella Piana di Lucca sarebbero venuti dal Trentino a respirare la nostra aria. Così non è. Fratelli d'Italia ha espresso un voto contrario su una legge che scarica sui comuni adempimenti che i comuni non sono in grado chiaramente di poter eseguire per le note carenze del personale, che sostanzialmente vanificano le misure fino ad oggi prese per contrastare il livello delle PM10. Siamo appunto a capo. Grandissime disponibilità a ragionare con l'opposizione quando non si hanno risposte e in altri casi, l'abbiamo visto per il nome dell'ATC, l'assoluta incommunicabilità per tutto quello che invece fa sostanzialmente il gioco politico di questa maggioranza. È stato un lavoro lungo, dice Italia, viva, migliorato anche grazie alle nostre proposte. Sì, ma c'è stato un miglioramento di un testo, un lavoro lungo. Noi siamo stati i primi come forza politica al Consiglio regionale a opporsi a un quadro normativo che imponeva, diciamo, lo spengimento dei caminetti, soprattutto nelle aree, diciamo, di Pistoia e di Lucca e la nostra mozione, il nostro atto ha fatto interloquire l'assessore con il governo. Abbiamo provato anche a livello comunitario di agire su una normativa. Il testo che arriva in fondo prende atto anche delle nostre richieste di modifica della dimensione sanzionatoria. È evidente che si va nella direzione di fare il massimo per la tutela di carattere ambientale e nello stesso tempo condividendo e convivendo con un quadro, ovviamente, infrastrutturale di molte famiglie, di abitazioni che devono fare interventi di adeguamento al loro interno. Quindi serve anche un po' di prudenza. È evidente che adesso, dalla bella stagione, non ci saranno più un problema così tassativo. La questione poi ripartirà a settembre. Nel frattempo abbiamo un quadro normativo adesso più certo che ci consente di agire, di non avere delle sanzioni, di spendere dei risorsi per fare elementi di incentivazione, per sostituire quei camminetti che non sono più a norma e credo che questo possa essere un tempo debito per fare questi interventi. Valuteremo poi a settembre se siamo nelle condizioni di proseguire o rendere efficace la normativa o se chiedere eventuali ulteriori dilazioni poi è evidente che poi ci sarà un momento in cui la normativa diventerà efficace. Io credo che l'atteggiamento che il Presidente della Giunta regionale ha avuto su questo tema sia sempre stato estremamente chiaro e coerente. Da una parte ravvisando la necessità di un intervento che va a rispondere ad una serie di esigenze che non possono essere sottaciute per i nostri territori, ma dall'altra parte con la volontà di mediare quanto più possibile per recepire le istanze dei territori. Quanto dichiarato dal Presidente della Giunta va in questa direzione e io sono convinto che anche grazie alla sua capacità di mediazione si potranno traguardare dei risultati importanti anche su questo tema. Ancora ambiente nel dibattito politico, mentre a Piombino si lavora per la messa in esercizio della nave rigassificatrice. Da una decina di giorni la Golar Tundra è entrata in porto. In Consiglio regionale si discute delle misure compensative attese dal territorio. Ad iniziare, dice il Presidente Gianni, dall'abbattimento delle tariffe dell'energia. Rispetto alle misure che dobbiamo concordare con quello che sono le opere complementari al posizionamento della nave a Piombino, quello che può accelerare, quella che è una volontà già espressa dal Governo, di diminuzione delle bollette per i cittadini e per le imprese, forse è bene partire da subito. Quindi, come la competenza è del Governo, siccome comunque non è stata ancora predisposta l'intesa fra Regione e Governo su queste opere complementari, io direi di far andare avanti una corsia di accelerazione da parte del Consiglio regionale con una mozione che non può che essere un atto di indirizzo, perché poi è il Governo che stabilisce questa diminuzione. Però mi piacerebbe che da parte delle autorità di Governo la previsione di un taglio delle bollette che si riferisca ai cittadini e alle imprese del territorio possa essere prevista il prima possibile, anche prima dell'intesa su tutte le varie opere complementari, le bonifiche, le energie rinnovabili, il sostegno al parco della Val di Cornea, il sostegno a quello che è la realizzazione della strada che possa far andare direttamente al porto dalla strada statale 398. Non si può parlare però, secondo il Movimento 5 Stelle, di misure compensative. Quelle che Eugenio Gianni chiama compensazioni sono delle misure che spetterebbero di diritto a questa porzione della costa che è stata bistrattata e penalizzata per tanti anni. Quindi, a distanza appunto di tutto questo tempo, sentir dire che quelle compensazioni sono qualcosa che viene dato in cambio dell'accettazione della nave rigassificatrice, per cui appunto un piano di sicurezza ancora noi non abbiamo potuto vedere, credo che sia molto grave e soprattutto sia ingannevole nei confronti delle persone. E questo non lo possiamo accettare. Fratelli d'Italia ribadisce il capogruppo Stacco, la comunità locale, che ha ribadito il no a questo impianto. Io continuo, l'ho sempre fatto e non cambio idea, né in virtù dei governi nazionali né in virtù di quello che accade. Ho sempre sposato la posizione del sindaco Ferrari, continuo a sposarla. Il sindaco Ferrari è determinato ad andare avanti nella sua istanza, che non è la sua, ma è quella della comunità che rappresenta, perché il sindaco Ferrari è alla sesta di tutta una città intera che non ha capito e non ha sposato questo progetto. Quindi io spero vivamente che il sindaco Ferrari ottenga un risultato e che mi dispiace soltanto che il pronunciamento del tribunale arriverà, se tutto va bene, dopo che il rigassificatore sarà messo in funzione. Quindi ci sarebbe un'accensione del rigassificatore e poi sembra uno spegnimento. Questa è una stortura tutta italiana. Ma spero vivamente che il sindaco Ferrari porta a casa il risultato. La mia presenza oggi è un modo per dire grazie all'Istituto Storico della Resistenza, per dire grazie alla famiglia Tognarini per quello che ogni giorno viene portato avanti. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, è una terra di diritti, è una terra di accoglienza, è terra che è sempre stata dalla parte giusta della storia. La Toscana è terra di formazione, è terra di ricerca. Le cose si tengono insieme in questo premio e io sono felice che anche il Consiglio regionale abbia fatto la propria parte. La sala del Gonfalona di Palazzo del Pegas ha ospitato la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio Ivano Tognarini, intitolato alla memoria dello storico scomparso nel 2014. Tognarini, docente di storia moderna all'Università degli Studi di Siena, si è occupato prevalentemente di storia del Novecento, con attenzione ai temi dell'antifascismo, della guerra mondiale, delle stragi nazifasciste e della resistenza. Il premio è promosso dall'Istituto Storico Toscano della Resistenza dell'età contemporanea ed è rivolto a tesi di dottorato in storia contemporanea. Con quale finalità? Questo premio è dedicato a giovani dottori di ricerca. In questo paese è molto difficile sostenere la ricerca ai giovani. Questo è un premio per far sì che possano riuscire a contribuire a pubblicare questi loro lavori che sono il primo risultato importante di una possibile carriera da storici. Ed è importante farlo nel nome di Ivano Tognarini, nostro ex presidente, che ha dedicato tanta parte del suo impegno proprio a sostegno dei giovani e della divulgazione storica. Quest'anno il premio è andato ex equo a Federico del Giudice Simone Renato Muraca. Beh, è un riconoscimento che fa molto piacere perché dopo anni di lavoro attorno a un dottorato su un tema specifico insomma è bello vedere un risultato ecco. E quindi sono molto grato appunto all'Istituto Storico della Resistenza Toscana e alla famiglia Tognarini per questo riconoscimento. La mia ricerca è fondamentalmente una comparazione tra Francia e Argentina che furono nel periodo tra le due guerre le principali destinazioni dell'emigrazione italiana. Ho studiato appunto queste emigrazioni per vedere come i due paesi integrarono gli stranieri all'interno dei sistemi di protezione sociale che stavano mettendo in campo in quegli anni. Quindi ho provato a vedere non solo quali furono le relazioni diplomatiche, l'intervento anche di forze sindacali per il loro inserimento in questi sistemi di protezione sociale ma anche come loro agirono per rivendicare dei diritti che ecco si stavano facendo mano a mano in quel periodo. Sono sicuramente molto contento, è un premio che riconosce il lavoro fatto durante il percorso del dottorato e quindi insomma è sempre bello vedere il proprio lavoro riconosciuto che è stato figlio di sforzi e di grandi soddisfazioni sicuramente. Sì, mi sono occupato di studiare la diplomazia culturale italiana in epoca fascista studiando questo caso comparativo tra Spagna e Portogallo negli anni delle guerre italiane dalla guerra di Etiopia alla fine della seconda guerra mondiale. Grazie a tutti!